Nel fine settimana dall'Europa settentrionale arriverà sull'Italia una massa d'aria ulteriormente più fredda che però andrà a formare una depressione principalmente sulle zone occidentali italiane e poi sul tirreno, quindi la nostra regione rimarrà ai margini. Perciò per la giornata di sabato avremo cielo inizialmente poco nuvoloso o variabile, poi dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Maggiore nuvolosità al mattino nel Tarvisiano dove avremo residuo nevischio di primo mattino e poi un miglioramento nel pomeriggio. Per quanto riguarda il vento avremo un vento moderato sulla pianura di Bora, forte invece sulla costa con grafiche a Trieste intorno ai 100 km orari. Vento piuttosto freddo e teso anche in quota sui monti oltre 1500 metri si sentirà l'effetto di questi venti freddi da nord-est. Temperature massime intorno agli 8-9 gradi circa su pianura e costa. Per la giornata di domenica cielo sereno poco nuvoloso ancora con Bora sostenuta sulla costa al mattino in calo dal pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature raggiungeranno gli 8 gradi, 7-8 gradi su pianura e costa con minime sotto zero però in pianura e decisamente sotto zero sui monti dove si potrà arrivare tra i meno 10 e i meno 15 nelle vallate alpine più interne. Per l'inizio della prossima settimana cielo poco nuvoloso o variabile, il tempo è stabile, non succede nulla di particolare e probabilmente rimarrà bello anche a metà della prossima settimana. Dall'osservatorio metro regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.